La Festa della Musica è in Italia e in Europa. Tantissimi concerti gratuiti di musica dal vivo, perché tutte le musiche appartengono alla festa e la Festa della Musica appartiene a tutti. Il 21 giugno partecipa la Festa della Musica 2024 dedicata alle bande musicali. La prima orchestra siamo noi!